Ehi zio, com'è la situazione lì dietro? Ottima qua, eh? Buona, buona! Ma... qual'è il piano? Fare un girettino, tranquillo, senza farsi male Senza cotolare, con la scarpata Esatto, nel limite del possibile Poi se capita... Tramarsi, se capita... Lo risolviamo Una bella pirrozza tanto per rinflescare gli anni Esatto Attenzione! La situazione si fa molto interessante Ehi Ale, lascia bene la cittura, eh? Wow! Abbiamo il pilota... Ho le palle stessa... Attenzione! Strada asfaltata, ma non è roba per noi questa Ah! Attenzione alla Panda, eh! Panda si porta sempre a rispetto Diretta concorrente Oh, all'inno è che il pilota è strada! Oh, all'inno è che il pilota è strada! Ahahahah! Yeah, boi! Yeah, boi! Yeah, boi! Yeah, boi! Yeah, boi! Ehi, vale! Ehi, vale! Sto facendo un video! Vuoi dire qualcosa in camera? Ti spiegare ad esempio! Fa ripetano... Ahahah! Ehi, dai! Non esce che è timida! Ehi, dai... Non esce che è timida! Non c'è più lì! Eccendo un'altra rama che ci può dire! bella bella a la situazione è abbastanza fresca siamo qui con il pilota Ale che è usatissimo è Giù che è la Vale che si sta chiudendo in macchina scusi signorina tutto bene? apriamo scopriamo il pilota numero 2 buonasera buonasera buonasera